Continua la consegna da parte della banca di credito cooperativo di Castiglione, Messier, Remondo e Pianella dei defibrillatori nelle filiali dove la banca insiste sul territorio. Noi siamo qui a Loretta Protino e c'è la direttrice Tiziana di Pietrantonio che è la direttrice di filiale di Loretta Protino, una banca non solo economicamente ma vicina anche in questi casi. Come ha ben detto lei è una banca costituita nel 1956 che da sempre è impegnata in attività sociali soprattutto nei territori in cui opera. Quella di oggi è un'iniziativa volta in tal senso che dire io sono onorata di essere qui a nome e per conto dell'istituto a rappresentare questo evento prestigioso. Sindaco Starinieri dicevamo di questa banca da tanti anni presente sul territorio a Loretta Protino, una banca che fa anche di queste azioni di solidarietà e di davvero iniziative importanti sul territorio. È una banca che riesce sempre a distinguersi e mantiene le promesse, soprattutto in questi ultimi anni anche l'aiuto ai cittadini oltre che ai territori è orientata al welfare che con la crisi diciamo sempre le fasce di bisogno aumentano, quindi è una banca che sta facendo degli interventi che risultano a volte tempestive e provvidenziali proprio nel senso dell'aiuto. Questa è l'ennesima conferma che è comunque orientata al campo della salute, degli strumenti che risultano sempre più spesso di salvavita e che l'amministrazione adesso cercherà di adoperare indirizzando l'uso nella maniera migliore. Quindi un ringraziamento al Presidente Savini, a tutti i dipendenti e anche al Direttore Generale di Giampaolo.